Vediamo con i giornalieri, allora questi 15.000 case abbondanti delle ultime 24 ore, come vedete, e questo l'abbiamo già detto, è un dato che deriva dalla stabilità della situazione, c'è questo andamento sinusoidale dei dati che deriva molto dalle modalità in cui sono fatti e processati i tamponi nei laboratori, quindi spesso guardate come sono fatte le varie settimane, dopo il dato basso del lunedì si risale, però poi di solito ridiscendere, questo appunto segue un po' il modo in cui vengono fatti e poi processati i tamponi, finché c'è questo andamento possiamo dire che è un ulteriore indizio di stabilità, però certo il dato è più alto, sono 4 giorni consecutivi che si sale, vedremo naturalmente se sarà confermata questa tendenza ciclica o no. I tamponi sono sempre quelli, intorno a quota 300.000 sommando i molecolari e i rapidi sono, ricordiamolo sempre, pochi in senso assoluto, non stiamo facendo un numero alto di tamponi. La percentuale positiva sui tamponi, cioè tutti positivi divisi per tutti i tamponi, perché adesso è difficile fare cose molto più raffinate con questo mischione di rapidi e molecolari, anche qui c'è una leggera risalita, la media di medio periodo però si vede a occhio, è sempre più o meno la stessa, altro indizio su base nazionale di una relativa stabilità, ma attenzione su valori alti, perché 15.000 casi, indipendentemente da quanti tamponi si sono fatti per trovarli, sono comunque sempre più del triplo di quelli che ci permetterebbero di tracciare i casi, quindi sono in numero assoluto alto. I decessi sono molto stabili, anche essi da qualche giorno, c'è stato un decremento rispetto alle scorse settimane, si rimane però attorno a quota 353, sono naturalmente numeri anche questi in senso assoluto alti, anche se in discesa. Le terapie intensive mostrano sempre questa loro stabilità, si vede a occhio come è fatta questa curva, siamo attorno a 2.000 posti occupati da ormai settimane, il dato di oggi è in leggera crescita su base nazionale, una crescita bassa, però che nasconde delle differenze, ad esempio in Abruzzo nel giro di una settimana sono cresciuti molto i posti, sono cresciuti di 20 unità, da 50 a 70 più o meno, quindi è tanto, il dato nazionale come vedremo nasconde delle dinamiche regionali diverse. Gli ingressi in terapia intensiva non confermano nell'ultimo paio di giorni, lo vediamo meglio dalla grafica successiva, quel calo che c'era stato diciamo nei primi giorni della settimana, si è tornati su crescita attorno a 150 al giorno, questi ricordiamo sono le persone che ogni giorno hanno bisogno delle cure di terapia intensiva, che entrano in terapia intensiva. C'è stata una discesa, rispetto a due mesi fa eravamo a 200 al giorno, però anche qui come vediamo siamo a 150, non è che siamo scesi in modo così sostenuto. I ricoveri proseguono la loro tendenza lenta alla discesa, anche qui con dati regionali poi da scorporare. Vediamo i vaccini, le grafiche con gli ultimi aggiornamenti disponibili, le dosi fatte sono 3 milioni e 3, siamo all'81% delle dosi arrivate, attenzione è un dato non altissimo perché è passata quasi ormai una settimana da quando sono arrivate le ultime dosi di tutte e tre i produttori, quindi l'81% alla vigilia del nuovo arrivo nasconde forse qualcosa che vediamo poi meglio dopo. Vediamo la grafica 7 di queste aggiornate sui vaccini che ci fa vedere prime e seconde dosi, anzi no, abbiamo le fasce d'età che ci fanno vedere come la fasce d'età che ha avuto più vaccini resta quella dei 40-60 anni, questi sono gli aggiornamenti dei vaccinati con due dosi, quindi vaccinati totali 1.300.000 con una dose 664.000 che tenderanno a crescere man mano che cresce la quota di AstraZeneca sul totale dei vaccinati, vediamo l'ultimo cartello che è l'ottavo sulle dosi somministrate per produttore, vediamo che AstraZeneca, sono arrivate più di 500.000 dosi di AstraZeneca, ma ne abbiamo somministrate molte meno, pochissime possiamo dire, solo 61.000. Questo potrebbe naturalmente dire che siccome AstraZeneca va somministrato a categorie che non sono quelle della fase 1, che erano quelle facili, personale sanitario, RSA eccetera, dimostra forse un andamento un po' più lento perché c'è da organizzare in modo diverso la macchina per andare appunto a prendere le persone a cui bisogna somministrare AstraZeneca, che sappiamo, personale delle forze armate, insegnanti e quant'altro. Quindi da monitorare già da adesso con grande attenzione come sta andando questo inizio embrionale di fase 2.